e c'è un fuori programma, non bastava la pioggia che ha interrotto per mezz'ora la partita che l'ha prolungata di fatto, ci sono anche due ragazzi giovanissimi se non sbaglio, se non vedo male che vogliono farci una foto con Mario Balotelli, Mario ovviamente si è prestato adesso vengono accompagnati fuori, nulla di grave, anzi direi fuori programma, piuttosto simpatico questo per il Milan non regala certe soddisfazioni dopo il 3 a 2